e ora tutti insieme muoviti e scuotiti scuotete con noi facciamolo insieme dai muoviti e scuotiti dai muoviti e scuotiti 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 mi muovo e poi mi scuoto muoviti e scuotiti e ora insieme mi muovo e poi mi scuoto Muoviti e squattiti! Guardate, l'uovo si sta schiudendo! È una gattina a coniglio di primavera! Ciao, piccola gattina coniglio! Stavamo aspettando di conoscerti da tanto tempo! Io sono Pendy, tu come ti chiami? Miau, miau! Ovetta! Ovetta? Ciao, Ovetta! Credo che tu gli piaccia, Penny! Ne è balsa l'attesa, Ovetta! Miau, miau! Miau, miau! Portiamo Ovetta al Giardino delle Favole per farla conoscere a tutti! Al Giardino delle Favole! Gattina Fatina, guarda un po' chi si è schiuso! È Ovetta la gattina coniglio! Oh, è bello averti nel giardino, piccolina! Miau, miau! Miau, miau! Oh, è così dolce! L'uovo si è schiuso? Sì, ecco Ovetta! Miau, miau! Miau, miau! Ovetta uova, ovetta uova! Credo che lei voglia le uova! Ovetta uova, ovetta uova! Miau, 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 miau! Che cosa fa? Miau, miau! Credo che stia nascondendo le uova! Miau, miau! Oh, ma i conigli pasquali nascondono le uova! Aspetta un attimo! Lei è la gattina coniglia pasquale! Miau, miau, miau! Quindi dobbiamo cercare le uova nascoste! Credo di sì, Candy! Sampastico! Ci servono dei cestini! Che bello! E io vado di là? Sì! Wow! Mi ho trovato uno! Io invece guardo qui! L'ho trovato! Ehi, voi vedete delle uova pasquali? Molto bene! Troviamo un uovo! Ditemi se lo vedete! L'avete trovato! Grazie! Miau, 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 miau! E grazie per averci aiutati con ovetta! Ancora non riesco a credere che abbiamo la nostra gattina coniglia pasquale! Ancora non riesco a credere Ancora non riesco a credere Ancora non riesco a credere